buon salve e benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo a giocare orzo of efemerate lista bagnore il grande il nostro mengu nazionale che ha fatto top 6 in challenge so che ne gioca veramente poche di challenge prima challenge che gioca di pauper prende questo mazzo ci fa direttamente top un mazzo che lui sta testando da un pelino e su cui quindi ci ha messo un attimino le mani portandolo ad essere questa lista qui oggi volevo portare di una versione un po più classica rispetto al mio orzo of scam di appunto orzo of efemerate pertanto perché non prendere direttamente la lista di uno dei campioni italiani ed eccola qui pronta fatta e finita su magic online andiamo a le due parole rispetto a questa lista a me piace un sacco il fattore di avere doppia bojuca 4 bounce land e 4 reliquie post side per avere un'impronta molto molto efficace contro mazzi a vase loop mazzi contro cui storicamente i mid range di questo tipo tendono a perdere ma che se hanno un piano eccessivamente forte per quanto riguarda il cimitero accoppiato ad una pressione elevata diventa effettivamente abbastanza efficace ho notato che proprio questi questi bv questi orzov tendono proprio a dare un'impronta molto molto aggressiva per quanto possano sia controllare un po sia chiudere in pochissimo tempo grazie all'iniziativa data dal goliath paladin e che poi in base alle build si possono veramente giocare in maniere molto molto differenti in questo caso giochiamo gli ammake che ormai sono entrati prepotentemente nelle liste per andare a gestire i vari guardiani siccome ultimamente si stanno giocando tanti naya gates che giocano appunto sono tornati a giocare i guardiani quel mazzo vince letteralmente delle partite a caso grazie ai guardiani e li supporta anche molto bene ecco che invece grazie a una carta come make questa cosa c'è di perdere a caso non succede oltre ad avere poi coalition honor guard contro gate che diventano eccessivamente forti sono veramente delle carte incredibili ma in questa lista c'è un'altra particolarità quella di giocare veramente tanta recursion dal cimitero doppia omen of the dead e una custodi squire custodi squire è una che io storicamente ho amato tantissimo e che qui dentro in realtà si inserisce molto molto bene anche perché luppando poi tra omen of the dead e custodi squire quando mi country l'omen io lo posso addirittura riprendere di custodi grande assente di questa lista non giochiamo i journey però journey anche vero che ultimamente si stanno giocando tanti downbringer cleric quindi diventa una carta un po tanto debole in alcuni in alcuni momenti il che la rende effettivamente una carta tagliabile in alcuni casi come questo per l'appunto quindi sei removali instant quattro cast down due a make più un cheners edit che completa il settino post side e un suffocating fumes per risolvere determinati spot particolarità di orzov efemerate che appunto gioca quattro efemerate efemerate è una carta che ci permette di salvarci pezzo da remova al fare più vantaggio fare un sacco di danni con la vampirella questa vampirella qui quando ne avevo parlato con mengu mi aveva detto guarda è pesante effettivamente ma in alcuni match up è una carta incredibile provala perché è proprio forte ora io ho i miei dubbi perché la curva così si sposta tanto però è anche vero che è una carta che blocca molto bene le sky fisher blocca molto bene praticamente tutti i volanti in realtà del formato non sta sotto snuff out piccola aggiunta e poi effettivamente in alcuni casi ti può chiudere la partita facendo vampirella più efemerate se questa cosa succede gli stai drenando 9 di 6 vite ma potenzialmente 9 e soprattutto questa carta quello che mi convince a provarla è che effettivamente con la ultimate di iniziativa dato dal goliath paladin entrerebbe come 6 set volare ex proof dreno 3 guadagno anche delle vite diventa effettivamente una carta molto interessante il tutto viene poi completato da un sacco di creature che invece entrano e panno vantaggio quindi 4 tra ben inspector 4 spirited companion e 4 inspiring overseer tutte carte che bene o male entrano e si ciclano in qualche modo in alcuni casi guadagnano anche delle vite sono evasivi insomma tutto quanto carino tutto abbastanza sinergico il mazzo dovrebbe inchiodarsi abbastanza poco a livello di lande ne giochiamo 22 che sono cubi 22 con 4 bounce land 3 obscura che completano sono delle fetch sostanzialmente che però fanno guadagnare una vita quindi ci mettono 7 terre che entrano e fanno guadagnare una vita e ovviamente ci cercano o danno direttamente mana di entrambi i colori e abbastanza terre stappate ne giochiamo 3, 6, 7, 8, 9 non sono tantissime però un cubi di terre tappate o meglio stappate che appunto ci permettono di avere qualche giocata un po' più snella side le uniche carte che non abbiamo citato sono altri due dombringer cleric e poi 4 dust to dust contro affinity contro affinity tendenzialmente questa tipologia di mazzo dovrebbe già starci abbastanza bene però i dust to dust ci danno un piano anche contro mazzi a base wildfire che giocano appunto le lande tappate e poi comunque non vogliamo rischiare di perdere tra virgolette a caso anche contro affinity quindi un bel 4 per di dust to dust potrebbe essere davvero buono insomma un mazzo che secondo le mie corde per come gioco gioca un po' troppe poker removal ma che in realtà è strutturato molto bene quindi voglio provarlo esattamente così con queste 75 vediamo un po' che cosa riusciamo a fare in questa lega non ci resta che testarlo allora match numero 1 22 lande ma l'igo va bene e questa ha già un pelo più di senso ha un pelo più di senso e andiamo a togliere in questo momento togliamo l'oscura tanto il resto ci serve più o meno tutto la bojuca dipende molto dal match up però partiamo di barrens vai così capiamo contro che cosa stiamo giocando foresta mori combo va bene più o meno sì va bene trap inspector vai muri combo muri combo muri combo è male però non è partito proprio benissimo possiamo dirla questa cosa andiamo alla ricerca di lande perché io sono sicuro che la andremo a saltare mi sarebbe una bella bouncerina comunque abbiamo pescato un'altra removal che è ottimo allora qua mi sa che ci andiamo a fare un bellissimo make te va bene e tre pigne per te almeno due danni volanti ci sono sempre da adesso in poi ah va bene una terrina io ho banana per te io devo mettere pressione devo mettere pressione non mi piace quasi mai fare questa cosa ma quando viene ottimizzata la cosa direi di sì anche perché non è che possiamo fare molto altro ok allora se possibilmente tu riuscissi a non avere il terzo di questi questo va più o meno bene sì no l'ha fatto al contrario ha cercato l'anda gli ha preso l'anda questi tre qua non li ha presi questa è un'ottima è un'ottima cosa è un'ottima situazione allora dunque noi qua ci conviene rimanere open di cast down per uccidere il pezzo in end pescare se peschiamo l'anda facciamo con la paladin me piasa me piasa intanto prendi che ci schiaffi e vai a 9 almeno un altro turno ce l'abbiamo tutto va bene sì almeno un turno lo abbiamo pesco vampirella cast down qua sopra l'anda concede va bene va bene va bene va bene 1 2 3 le removal le mettiamo tutte questi qua li mettiamo perché stoppano alcune cose e almeno un paio di reliquie che fermano perlomeno ripin the graves custodi squire è lentissima fumes non fa praticamente nulla idem bringer idem le 3 carte in realtà io man of the death non fanno un granché non fanno praticamente nulla Il problema è che queste ci possono servire per chiudere la partita Anche perché questo è un matchup dove comunque in questa versione non abbiamo abbastanza removal per gestirlo troppo Quindi dobbiamo mettere pressione per ogni il più possibile e la vampira più efemerit possono essere un'ottima cosa Quindi a questo punto non sediamo tutte e due le relic ne sediamo una Va bene va bene abbiamo qualche removal in più per quanto gli editti siano un po' più scarsi Questa è un'altra mano monolanda bellissimo manligo e questa è una mano un pelo più tenibile Da qua dobbiamo togliere purtroppo efemerit Che il resto ci serve più o meno tutto nella speranza di arrivarci a farlo Sì e abbiamo pescato un altro Bene bene vai Sì E un altro tinderwall Vabbè abbassiamogli un minimo il count dei defender in campo Vai Che è comunque qualcosa Lead e stampede Drift, X-Bane e Vagut invoker Ok Facciamo un altro chainer Ok Io direi che ci riprendiamo questo per il lungo Uno, due, tre Tanto noi facciamo così Se Vai Il problema è che non abbiamo più granché Questo è un problemone Uno e due Accolito con protezione dal nero Questo è un macello Questo è letteralmente un macello Sì Questo è letteralmente un macello Vai Perché adesso non possiamo più accoppare Sta roba qua Male male Non ci resta che provare a spingere Facciamo paladino Non ci resta che provare a spingere Ma lui in realtà al prossimo turno ci può già accoppare Sono Due Sono tre Sì 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 Gli basta Trasmutare questo Ok Spread from the real Però non può farlo questo turno Cioè Lo può fare Ma non può stappare Perché ha utilizzato malissimo il mana Sì Quindi se troviamo una soluzione per questo Ma anche soltanto Facciamo scry Anche soltanto il nostro coalition honor guard Coalition honor guard Questo lo buttiamo sotto Questo lo teniamo su Due Tre Quattro Coalition Honor guard E già devi trovarne un altro Cioè devi trovare l'altro Quello che non targetta E poi Questo turno Facciamo Bog Su di te Sì Facciamo anche una travenina E ovviamente si attacca di paladino Vediamo se per caso ha sbagliato E non ha un pezzo per Per risolvere Magari Due Tre Quattro Cinque Sei Prossimo turno Potenzialmente possiamo fare Chain Non che serva Granché Sì Quindi il ranger Tanto non la poti Nooo C'aveva pure l'altro Due carte in mano Valla cut invoker Non la chiusura Sì No Valla cut invoker Sì 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 E siamo morti Purtroppo siamo morti Uno Due Tre Quattro Penso che siamo morti Sì Penso che siamo morti Perché Con questo qua Sì 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 Va bene Eh ma ho peccato il secondo drift Se no Non dico che la risolvevamo Non tenere pure Fiumz Non tenere pure Fiumz Che balote Che balote Brutto brutto tenere Fiumz E qua non abbiamo neanche i giorni Mi sa che leviamo una vampira Che comunque sia chiodosissima Va bene Sì Ok 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 Terrina Vai Sì Va bene Morto il pezzo E con gli editti di Chainer Proviamo proprio ad inchiodarlo fin da subito Poi Se riesce a schiodarsi Bravo lui Sì Morto pure quello Non voglio nulla sul campo Nulla di nulla Sì Ti attacco Anche basta Troppa uno Che ne pensi Bravissimo Bravissimo Siamo companion Sì Terrina Ti attacco Ti attacco Preferisco provare a pescare la landa Piuttosto che fare Schifisher Perché se riesco ad appoggiare Goliath Paladin Il prossimo E tanta roba Va bene Questo va comunque molto bene Scarta uno Scarta uno scrap Muval Goliath Paladin Concede la partita Questi due Cea sedic sono stati Una manna incredibile Molto bene La prima contro muri L'abbiamo vinta Bene 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 Match numero due Partiamo noi Questa è una bellissima Mana sei lande Maldigo Ok Questa è una mano Questa è una mano Questa è una mano Che attualmente Toglie Ephemerate è forte Qua Però abbiamo già Omen Abbiamo già Omen Però io non voglio Togliere una landa Quindi Vediamo questo Va bene Partiamo di Bog Mi serve Già avere Il nero sul campo Vai Comunque Ephemerate Ne giochiamo 4 Quindi Lo pescheremo Quando servirà Ok Questo Questo è male Almeno G1 Mi sembra molto male Vedremo G2 E G3 Però G1 Mi sembra molto male Oddio Dei piani ce li abbiamo Qualche piano c'è Però Un po' difficilotto Augure di Bolas Ok Però giochi una lista Che fa cagare Quindi Possiamo farcela Possiamo decisamente Farcela Visto Visto la lista Ok Vai Va bene Allora 5 terre ci arriviamo Il problema è capire se Questo Goliath Paladin Risolverà per sbaglio Oppure no Mi fa tutte e due in cima Landina Ok Va bene Questo ci dà la possibilità Di farlo anche il prossimo turno Qualora non si tenesse open Voi direte un po' difficile Però Intanto Ok Va bene Qua non possiamo sprecare Questo Questo castdown Purtroppo Core Skyfisher Ok Lo possiamo provare a fargli utilizzare Un counter Su skyfisher Ok Vorrei provare A fare Core skyfisher Counter Counterspell Ok Vorrei provare A fare Potrei anche pensare Di farlo già adesso Potrei anche pensare Di farlo già adesso Pensa che lo faccio Home and of the dead Si Terrina E 1 E 2 Core skyfisher Si Ma in questo momento No no Comunque Home and Vai Molto molto forte Questa cosa Lui ha utilizzato una risorsa Che Tra virgolette È stata Sprecata Moldrifter A pieno Ok Risolviamo Paladino 1 2 3 4 5 Paladino Si Si Su Prendiamo Lilla Facciamo questo Vai Ok Adesso Lui deve risolvere Una situazione Che Non è delle più rose Lo possiamo dirlo Lui è Gessky Non ne sono Troppo Sicuro Che Sia Gessky Ok Ok Stappiamo 3 1 4 Porge Da capire Solo dove Dove Tirarlo Ma Penso Sull'over Si Ok Ok 1 2 E 1 3 Facciamo Overseer Ok Facciamo Questa Che ci leva Un'altra Terra Dal Mazzo Bianco 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 Poi a 4 A 4 Già diventa Croccante Ok 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 Qui potrebbe essere Semplicemente UR Ok Ce l'hai Sage Sky Sage Sky Ok Power Power Di Bolas Va bene Brainstorm Fino qua Abbiamo due volanti Uno E' vero che lo puoi Tra virgolette Blincare Pescarti Delle robe Io intanto In hand Vorrei fare Omen Recuperare Un Overseer Che mi farà Pescare Anche una carta Poi dopo Stappiamo Ok Facciamo Overseer Vediamo che peschiamo Prima di tutto Ephemerate Ephemerate È una carta Facciamo questo Sì Doppio Ephemerate Ti meno Un Due Tre Viga E basta farti Quattro Danni Sì che può Blincare Un pesce Bloccarmi Questo Indubbiamente Poi Blocca Anche Il Glide Paladin Va bene Va bene Sì Va bene Vai a Sette Credo Bolt Lì sopra Vorrei Efemerare La mia Skyfisher Sì Va bene Mi riprendo Omen Ok Tu dovresti Perdere Due pezzi Perfetto Perfetto Blinco Il mio Paladino Riprendo L'iniziativa Ti faccio Una trappola E ti mando A Quattro Sua livello Di volanti Io sono messo Molto bene Molto bene Vai E questi Omen Of The Dead Incredibili Poi ci Abbiamo Un doppio Rebound Di Ephemerate Questo Va Bene Non ho capito Perché non hai Blincato Questo Perché Vuoi Attaccare Va Bene Però Con l'altro Fai Più Vantaggio Lui ha un sacchissimo Di carte In mano Ma non Abbastanza Tempo In teoria Per sfruttare Questo Vantaggio In teoria Comunque Post side Miglioriamo Infinito Perché Andiamo A mettergli Oltre Dust To dust Le reliquie Volendo Pure I chain Ne ha preso Uno Smescino Smescino Leva Questi Due Che Effettivamente Un po' Una rottura Di palle E Però Anche Verro Che noi Possiamo Poi rispondere Con Omen In End Di nuovo Va Bene E Fino Qua Però Non Hai Ancora Risolto Troppa Roba Questo Me l'hai Risolto Sì Questo Me l'hai Risolto Giochi Galvaniche E Bolt Prenderò Due Sì Attualmente deve avere almeno un altro efemerit Che se no è morto è morto di questo barra o un efemerit o un botto Quindi in realtà Un botto che non sia galvanica in questo momento Un botto che non sia galvanica Archiomante Ok Prendi Bolt Va bene Va bene E allora andiamo di Omen Lui è tapped out Omen Tra l'altro non ha ripreso subito efemerit Il che Perché non aveva abbastanza tempo Il che per noi è ottimo Allora noi adesso ci riprendiamo iniziativa Questo Gialdiamo tutto Se Questo Va qua sopra Ok Peschiamo una carta Di qua Peschiamo una carta aggiuntiva Questo va qua sopra Risolviamo la ultimate Uh Bene E a sto punto prendiamo questa qua E abbiamo vinto E abbiamo vinto E che il Mangu ve l'aveva detto questa carta qua Ogni tot risolveva Qualche situazione Però effettivamente Sì E 1 2 3 4 5 Boom E g1 L'abbiamo spuntata con la vampirella Bene 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 1 2 3 4 Dobbiamo mettere pure dust to dust Perché comunque lo rallenta un tot Ma gli li metterei quasi tutti I downbringer sono bruttini Dobbiamo capire se vogliamo pure mettere i chainer Non è detto Perché sono carini ma non troppo Fumes è abbastanza morta Abbastanza brutta Non so se voglio effettivamente sedere tutte queste robe Probabilmente chainer è anche proprio brutto Quindi no Via chainer E poi E poi E poi E poi Sarà come Sarà come Che cosa Che cosa vogliamo togliere noi effettivamente Remove all instant Non si toccano I paladini sono fortissimi Il gusto di squire è forte Le vampirelle Tecnicamente sono forti Poi praticamente Sono i chiodi più grossi Forse non tutti dust to dust Però qualcosettina dobbiamo limare Una cosettina è da limare Questi pezzi qua Non penso si possano toccare Come una vampirella La togliamo Non è esattamente il match up in cui brilla Possiamo dirla questa cosa E poi Piuttosto Leviamo Dio che la squire Mi riprende anche la relic Se me la Se me la countera Quindi non la posso toccare O me not the dead È figa Perché lui è a base removal E non credo neanche Che giochi hate contro cimitero Post side Quindi Mi piace tenerla Questi sono belli I paladini Non scherziamo Leviamo un altro di questo E leviamo Una trabenina Perché mi piacciono i più volanti Leviamo una trabenina Va bene Ce proviamo Ce proviamo Monolanda Maldigo Ok Keep Keep E andiamo a togliere Dove Dove togliere a make Da qua Togliamo a make Per il momento Non è che ci serve subito In teoria Ok Una core skype shore Mi servirebbe a breve Un dust to dust Va bene Questo va Va bene Pesco Dust to dust Ok Terrino Facciamo companion Sì Vai Appena mi fa una landa Tappata Dust to dust Nei denti Mannaggia Quante terre Non tappate Cioè Quanti non bridge Va bene Quanti non bridge Quindi ha fatto Ciclo in hand Brainstorm Nel suo Sorcery Bene Mi piacciono Queste cose Perché qua potrebbe arrivare Un augure di bola Se però Sì Diamo un po' di senso A questi auguri Va bene Comunque Comunque Appena arriva Una Landina Tappata Un po' di cosine Ci facciamo Allora Allora Intanto attacchiamo Sì Ok Facciamo questo Sì Landina Facciamo Corsky Fisher Ci andiamo a riprendere Il companion In mano Vai Abbiamo sfruttato Un po' meglio Il mana Abbiamo un board Che fa Un attimino Più paura Poco Ma un attimino Più paura Secondo Wildfire Male 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 Va bene Qua una landina Tappata Terzo Wildfire Ecco I Dust Dust Più o meno Adesso li buttiamo Oddio Li buttiamo Più o meno Perché comunque Si agli da fastidio Se gli andiamo a togliere I I vari colori Però Diciamo Che fanno Un po' meno effetto Questo lo possiamo dire Questo lo possiamo dire Facciamo un companion Sì Facciamo questa Attacchiamo Vai Stiamo Pseudo Open Di un Ephemerate Se si tappa Facciamo Goliath Paladin Andiamo a scavare Per delle relic Che poi alla fine Sono le ultime cose Che ci servono In questo momento Per cercare Di mettere La giusta pressione Proprio Un bridge E basta Cioè Senza Senza vergogna Va bene Sì che così È il modo Per stare Assolutamente Più fuori Da Dust Sempre ci si riesce A pescarlo Triplo Sì Questo è il quarto Trancing Wildfire Che tira In questa partita Va bene E passi Così Ma sai Che No no Va bene Terrino Ti vorrei Attaccare Con la Skyfish Sì Mi gioca Due montagne Quattro E uno Cinque Paladino Due montagne Sono Abbastanza Sì Prendiamo Bianco L'hai Fatto L'hai Fatto Vai L'hai Indubbiamente Fatto Tu intanto Sei a 14 Vediamo Se Togliere Quelle Vampirelle È stato Giusto Oppure No Lo scopriremo Vivendo Va bene Prendi Scred Mi giochi Gli Scred Giochi Volt Galvanica Scred Volt Galvanica Scred Ah Blocco Guarda Te lo giuro Sì Te lo giuro Ok Io Sono Quasi Tentato Di farci Un Forge Qua sovra Ci faccio Un Forge Devo Abbassarlo Di vita Il più Possibile Ok Vorrei fare Traben Inspector Ok Landina 1 2 3 Vorrei fare Dust to Dust Su quei due pezzi E tu dirai Chi se ne frega Eh però Fidati che Un minimo serve 1 E 2 Vorrei ucciderti questo Cancer spell Va bene Va bene Lui si riprende Scred E vabbè Gli diamo Comunque 4 danni Lui però Adesso C'ha Ephemerate Scred Lui potenzialmente Mi può fare Scred su un pezzo Ephemerate Scred sull'altro Risolvere Board E vincere La partita Male Perché io Poi il prossimo Vediamo Cosa peschiamo Il prossimo Va bene Sì Va bene Ok Due bianchi Due rossi Wow Sì Dipende tutto Da che cosa Peschiamo adesso Se peschiamo Un altro Goliath Paladin Lo giochiamo E siamo Up Di Ephemerate No Riprende Quante basi Che giochi 6 7 8 9 10 Non mi ha pescato Niente Ovviamente Ti vorrei Attaccare Si è open Solo Di blu Ok Trappola Vai a 1 Si è preso un bel rischio Mamma mia Pesco Croiath Paladin Pesco Facciamo Basilica Mi si è preso un bel rischio Vai Io sono Ben disposto Ad andare indietro Di land Pur di provare A salvarmi Il pezzo Sì Sì Ok Va bene Tu puoi fare Scry Porge Quello che vuoi Va bene Sì Mi fa Scry Va bene Ok Lui c'ha un counterspell in mano Qua prende la removal Per forza Io vorrei provare a salvarmelo Vorrei provare a salvarmelo E counterspell Va bene Un mano Ah questa pianura E due carte Tenuto dispel Castdown è una carta Due Tre Quattro Cinque Paladino Ok Peschiamo Companion Un Ephemerit Solo Io provo Provo ad accoppargli il pezzo In risposta All'Ephemerit Se non ha Un'altra Un altro counter in mano Gli risolviamo il loop In linea di massima Ok Mi sei Più o meno Al top deck Più o meno Tre carte in mano Io comunque Il prossimo Ho un turno Abbastanza decente C'è Companion Che pesca L'altra Che potenzialmente Fa la stessa roba Ok Paladino O prendiamo un volante Io so che prendiamo un volante Sì Ok Facciamo questo Abbiamo di nuovo un board Notevole Bojuka Bog Wow Ti vorrei attaccare Vediamo che succede Perché abbiamo anche questa Portissima Bojuka Che può decisamente Risolvere La situazione Ok Core Skyfisher Eh qua mettiamo Veramente tanti pezzi Sul tavolo Sì Due o tre carte in mano Uno e due Facciamo un'altra Companion Ma sono pezzi Che si ciclano Va bene Facciamo Bojuka Bog Su di te Che ti leva Veramente tanti pezzi Tanti pezzi Importanti Vai Sei a uno Prego Io il mio L'ho fatto Il prossimo turno Posso Tutorarmi Solo una Basica Va bene Mamma mia Comunque Mamma mia Quasi tentato Di non sai dare Più di Dust to Dust Nel Mirror C'è Nel Mirror Contro Jeskai GGs GGs Battuto Un matchup Che pensavo Fosse Veramente Difficile Veramente Difficile Bello Bello Dunque Match numero 3 Questa è una mano Che perlomeno Sviluppa un minimo Va bene Keep Abbiamo già anche Il nero Quindi abbiamo Tutti i colori Abbiamo beccato For Color Gate For Color Gate Ok Nero Vai For Color Gate Non so benissimo Come sia il matchup Soprattutto G1 Mi sembra un po' Un po' Bruttino Sì Perché abbiamo Poker Removal E I guard Cioè oddio Gli coalition Horror Guard I guardiani Li possiamo gestire Coalition Horror Guard Ci arriviamo di side Come arrivarci Però Post side Andando Facciamo così Poi tanto il piano È sempre quello Di mettere pressione Quindi Go Va bene La Citadel Intanto qua C'ha verde E rosso Devo scavare Il prima possibile Per una make È anche vero Che noi abbiamo Veramente tanti bloccanti Poi entriamo Con questi Un po' di robe Possono anche Succedere Io però qua Ma che cavolo Devo fa' Perché non è che Abbia tutta Questa voglia Di andare in Discord Facciamo Corsky Fisher Sì Ci riprendiamo Questo Landa Vai Ho tutta Questa voglia Di andare in Discord In questo momento Poi vediamo Il prossimo Piuttosto Poi scartiamo Una swamp Corsky Fisher Va bene Oddio Più o meno Perché così Tutora il secondo Basimisc Non è che sia Esattamente Lui è Inchiodato All'hande C'è oddio Il prossimo Non si stappa Però Però bene Ma non benissimo Facciamo questo Se Corsedit Va bene Questa Vai Andiamo in Discord Sì Body Corsedit Era figo Da tirare Qua Ma sai Che A me Va bene Come trade Anche se Mi volessi Tirare Un bolt Non è che Me ne freghi Più di tanto Va Va bene Va bene Va bene Per me è stato uno scambio Accettabile Abbiamo pescato Gusto di Squire È stato uno scambio Più che accettabile Perché qua Entra Golai e Paladin E io sono Abbastanza contento Di ciò Ok Prendiamo Prendiamo Lilla Altra Non ci serve In realtà No Vai Abbiamo pescato pure Questo di Squire Fantastico Fantastico Per me Questo è stato Un trade Più che accettabile In realtà Tutto ciò che deve fare Lui è sviluppare Il suo piano E il suo piano È più forte del nostro Se mantiene Presenza sul board Ma se fa questa cosa Noi passiamo Letteralmente Tanto in vantaggio Perché adesso Lui Sta lì A subire Il nostro Il nostro Vantaggio Sì Fammi un bel Journey Va beh Ti riprenderà Questo Quindi stai sotto Chainers Edict Pulitissimo Pulitissimo E allora io vado Vado aggressivo Facciamo questo Ok Facciamo Chainers Su di te 1 e 2 Peschiamo Vampirella Che comunque Facciamo Basilica Ci riprendiamo Questo Vampirella Tra l'altro Poi saranno Nel caso 6 pigne Nello stesso turno Vai Prossimo turno Vai A 10 Quando Stappo Potenzialmente Te ne prendi Altri 5 Ma non credo Penso che andrà A bloccare Però È già Qualcosa Lui qua Picca Qualcos'altro Manor Manorgate Va bene Qua per Pseudo Risolvere Qua ci andrebbe Un gattino Va bene Questo non fa Nulla Dicevo Pseudo Risolvere Perché Comunque Me lo Blinco Ci pesco Sopra Va bene Tanto Non chiudo Comunque Questo turno Quindi Preferisco Mantenere Un pezzo Sul board Che mi fa Pescare Trappola Andiamo Proprio Aggressivissime Vai A 10 Questo Va Qua sopra Pesco Unmake Ottimo Ti vorrei Menare È successo Ma io Quasi quasi Mi riprendo Skyfisher Facciamo così Companion Ok Landina Che conosci 2 3 4 5 Custodi Squire Yes 4 Skyfisher Così Abbiamo Un volante Grosso Prendiamo Skyfisher Abbiamo Comunque Mamma mia Ragazzo Non si Fanno Queste Cose Via Va bene Ha concesso Non si fanno Queste cose Non si fanno Queste cose Se sbaglio A cliccare Mi clicchi Qualcos'altro Questa è strutturata In modo tale Da prendere Tutte quelle Con Più voti Se entrambi Hanno un voto Io le riprendo Entrambe Comunque Prossimo turno Potevo fare Meno meno Vampirella Riprendo Vampirella Vampirella Sacco di dannini Bene Bene Coalition 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 Poi Non penso Di voler Sideare Anche gli altri Downbringer Anzi Potenzialmente Ne possiamo Anche togliere Uno Secondo me E dipende Tanto da Che cosa Vogliamo Secondo me Almeno Un'home Ne la possiamo Togliere E che dipende Se gioca O meno I journey Però Tendenzialmente Poi i journey Posso Sideare Ha senso Se darli Fuori Io Faccio Faccio Così E tendenzialmente Dobbiamo capire Se gioca Recursion E quindi Ha senso Andare a mettere Le relic Oppure Vogliamo Aumentare Il numero Di removal E mettere Anche Un altro Chainer Sedic Che potrebbe Avere Mezzo Senso Però Secondo me Non giochiamo Abbastanza Removal E quindi Il piano Di fare Coalition E proteggere Coalition Mi sembra Il migliore E a questo punto Provo a togliergli La recursion E facciamo così Va bene Va bene Allora Questa mano E anche accettabile Keep Un po' Pesantuccia Un po' Pesantuccia Però Sviluppa bene La parte Lande E abbiamo Comunque Un companion Che pesca E siamo On the draw Secondo me Discretamente Accettabile Grande Grandissimo Grandissimo Mi è piaciuta Questa terra Relic Vai Magari È anche Malligato Per questo Per Cercare La reliquia Dunque Landina E facciamo Companion Abbiamo pescato Un'altra Landa Che va Va bene Galdown È un Pelino Meglio Vai Sacca la reliquia Alla ricerca Di lande Fantastico Non la trova Incredibile Bellissimo Facciamo questa Noi intanto Sviluppiamo La Ho inchiodato Eh ragazzo Vai Non trova nulla Ok 2 1 3 Ti attacco Vai Prossimo turno Appoggiamo Paladino E penso Che andrà a concedere Penso Non trovo Anche se trova Robè Adesso Siamo Mamma mia Triplo Paladino Un po' pesantuccio Diciamo Paladino Yes Concede la partita Vabbè Lui ha Malligato Ha tenuto Con Monorelic Ed è Morto A casa Vabbè Ci aveva anche Questo Ci stava Ci stava Ci poteva stare Ci poteva stare Purtroppo Sti mazzi Ogni tanto Si inchiodano Un attimino Così Però Forse G1 Poteva essere Giocata un po' Meglio Però Va bene Va bene Siamo su un 3-0 Bene Match numero 4 Siamo sul play Ma sa che io la tengo Questa Ci abbiamo una pescata qua Una pescata qua Ci basta vedere Un'altra terra E abbiamo un'altra terra Qualunque Abbiamo un'altra pescata qua E poi il nero Lo pescheremo A un certo punto Della nostra vita Almeno questo È l'obiettivo Ok Va bene Facciamo questo Allora Prima pescata Non era una terra Seconda pescata Non è una terra Bene Vediamo se la terza pescata Sarà una terra Se no la quarta pescata Dovrà essere una terra Giochiamo 22 lande Quindi Igor Wellspring È successo Non è una terra Pesco Non è una terra Fantastico Non dovevo tenere questa mano Non dovevo tenere questa mano Però io vi giuro che Statisticamente qua una terra Ci doveva essere E che quindi Tutto sommato Va bene È successo È successo Vai Ci abbiamo pescato Doppio Omen of the dead Una removal a tre Una mannaggia Di una miseria Sì Nove carte in mano Vediamo se saltare In drop anche lui No Ok Cos'è 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 sta roba Se lo stai facendo Da Mamma mia Mi ha scartato L'unica spell Che potevo tirare Tra l'altro Sì Ah boh Sì 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 No Può scegliere lui Può scegliere lui E noi saltiamo Di nuovo Il drop Vai Vabbè Non c'era una terra In cinque carte Non è che ci possiamo Fare molto In tutto questo E qua può fare Più o meno Quello che vuole Sì Il fattore È che noi Le removal Ce le abbiamo Ok Mamma mia Che brutta Questa carta Va bene Sì Vero Che sinergizza Con questo E con l'infiltrato Però è proprio Pro tutta Questa carta Sì Basilica Va bene Sì Vai E questo sarà L'inizio Della svolta Togliamo questo Vai L'inizio Della svolta Recorder Bargain Che è appena Diventato La deadly dispute Col plus Di guadagnare Due vite Sì Hai pompato Tutto Va bene Va bene Noi abbiamo Tecnicamente Il lupino Di skyfisher Il problema È che potrebbe Potrebbe Essere Un pelo Troppo tardi Visto che mi hanno saltato Veramente troppi Land drop Che non l'avessimo Fatto Questi due pezzi qua Non c'erano Che cambia Notevolmente Sì Cambia davvero Davvero Tanto Che noi adesso Qua prendiamo 9 Il prossimo turno Qua prendiamo 10 Il prossimo turno Questi sono 4 5 7 1 8 Minimo Eh no 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 Però davvero Con una landa in più Non c'erano Tutti sti pezzi Non era un problema Va bene C'è Nersedic C'è Nersedic C'è Nersedic E via Non penso Le Dunbringer Facciano molto Non penso neanche Che Fiume Si faccia molto In realtà Proviamo a fare così Non credo Di volere Le Relic Non credo Vai Proviamo Proviamo Ho sbagliato io A tenere la prima mano Però Secondo me ci stava Penso sia da considerare Una di quelle partite Che Bisogna perdere E basta Va bene Partiamo noi Siamo di nuovo Sul play E questa è una mano Che andremo a tenere Andremo a tenere Sì Obscura Prendiamo direttamente Bianco Sì O nero Ma no Bianco Vai Ok E questo mazzo Necessita di tanto Bianco Va bene Facciamo Basilica Ok Vai Adesso Un po' di removal Ci sono La stessa cosa Che ha fatto prima In questa partita Non sarebbe Allo stesso modo Efficiente Ok Qua prendiamo Invece nero Vai Sa che almeno La quarta landa Ce l'abbiamo Appena cominciamo A pescare Delle creature Che fanno cose Non sei partito Esattamente Nella stessa maniera Questa quinta landa Questa quinta landa va molto bene Se lui non fa nulla Non dobbiamo fare grossissime cose anche noi Almeno non Non attualmente Goliath Paladin Eh vabbò Che te devo di Non fai nulla Pezzi Creature a instant Non penso Che tu ne abbia Questo è morto Va bene Sì 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 Va bene Però penso sia un po' forte questa cosa Perché uno non salterò all'endrop il prossimo turno Due io sono pieno zeppo di removal No questa Vai Oltre ad avere anche omen of the dead Tra l'altro Tra le altre cose Questa Facciamo Scry Ok Questa va bottom Questa la kippo Terra Vai Tu non fai nulla Non faccio nulla neanche io Se fai pezzi Te li uccido Se non fai pezzi Blood fountain Oh Non penso Che questa partita Si possa perdere Pesso che l'ho detto Ovviamente Cambieranno le cose Ma La vedo un po' difficile Deathly dispute Ok Va bene Non fai grosse cose Allora noi Acceleriamo Il nostro Il nostro Iniziativo Facciamo questo Che mi mette anche Un tesoro sul campo Quindi un mano aggiuntivo Due Tre Quattro Cinque Vorrei fare paladino Sì Vorrei mettere un quattro Uno sul campo Ok Go Riesco a stare open Di efemerik Barra Castdown Mi siamo messi Abbastanza bene È morto Indubbiamente morto Sì Hai fatto il tuo pezzo Va bene Sì Questo è un Chain Sedict È morto Pure questo Ok E uno E due Facciamo Castdown Qua sopra Lui ci può tirare Una di Sputano Bargain Un qualcosa Non importa L'importante è tenere Il campo pulito Va bene Fa un più uno In mano Stappiamo Risolviamo La ultimate E bene Facciamo paladino Bello grosso E so Giriamo poi Dall'altra parte Sì Prendiamo Pianura Vampirella Giriamo dall'altra parte Nel senso di Intanto facciamo Corsky Fisher Sì Che mi riprende Omen Mi fa stare fuori Dai vari editti L'andina Due Tre Quattro Cinque Paladino Nel senso che Acceleriamo La chiusura Facciamo Forge Forge Va qua sopra Vai Il prossimo turno Sono almeno Cinque danni In faccia Più Ci saranno Almeno Penso Undici danni In faccia E potenzialmente Possiamo chiudere Con Vampirella Più e Femerit Però vediamo Che succede Sicuramente Cener's Edict Non serve Fangra e Marauder Gli fa guadagnare Un bel po' Di vite Questo lo possiamo Tranquillamente Dire Questo lo possiamo Tranquillamente Dire Beh che lo possiamo Accoppare Senza troppi Problemi Però Cosa sei Sacca un artefatto Distruggi una creatura Un placewalker Va bene Mi ha deciso un paladino C'è uno dei due grossi Successo Tra carte in mano Però E intanto Si è anche andato A 25 Facciamo Trappola Su di te Mi torni A 20 Spero Ok Vorrei fare Un make Qua sopra Non è vero Vorrei fare Castdown E si può guadagnare 10 vite In risposta Potenzialmente Di più Si Bianco Addirittura Cicla Va bene Guadagni altri 5 Questo vorrebbe morire Ok 3 4 5 3 4 5 Vabbè Intanto Ti darei 8 danni Che sono Comunque Un buon numero Poi facciamo Terra tappata E io a questo punto Metto la vampirella Metto la vampirella Più 3 Meno 3 Va da 27 Tu torni a 19 Torni ad una quantità Di punti vita Non eccessivamente Elevata Swamp Va bene Giuro che se Flashback Keychainer Mi muore Da Corsky Fisher Questo qua Non serve A un tubo Di niente Deadly Dispute Va bene Si Va bene Icore Wildspring Va bene Icore Wildspring È un 4 3 Mi toglierà Omen Per forza Di cosa Se no Continuo Non mi Non mi risolvi Più Questo Togli Ephemerit Invece Togli Ephemerit Fa così Paura Va bene Io qua Pesco 2 Carte Comunque Va bene Ok Ok Che te devo dire Shaders Edict Su di te Mi ha pescato Lo facciamo 3 6 Ti vorrei Menare Sono 11 Pigne Vorrebbero essere 11 Pigne Va bene Sono soltanto 5 Pigne Sì 1 2 3 Facciamo Overseer Il prossimo turno Tanto giriamo di nuovo Facciamo di nuovo L'ultimate Sì stiamo open Per eventuali cose Wow Vai 2 carte in mano E un Chainer Al cimitero 5 6 7 E beh Forte questo Toglie skyfisher Sì Tanto come numero di danni Non cambiano Facciamo omen Ci andiamo a riprendere Skyfisher E questa cosa Contra i mazzi a base Removal È veramente forte 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 Concede il game Va bene Ci dovremmo andare a giocare G3 Allora Allora Beh questa mano Non si inchioda A livello di lande Lui tiene a 7 Io provo a tenerla Abbiamo già il lupino Skyfisher Omen Per guadagnare del tempo Qualora dovesse essere necessario Quindi Non mi dispiace Unmake Mi dispiace ancora meno Ok Qua prendiamo bianco Vai Mi dispiace ancora meno Perché adesso abbiamo Una removal Decente Va bene Prima o poi Qualcuno Ma ha tenuto Monolanda Ragazzi Ha tenuto Monolanda Vai Ma oggi Oggi la gente Ha deciso di esplodere Un po' a caso Fantastico 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 Va in discard Bellissimo Bellissimo Piero di questo mazzo 1,2,3 Vorrei fare un pippolo Qualunque Sì Ma maldigatele queste mani Ci hai tenuto a 7 Con questa cosa Hai tenuto a 7 Sei un pazzo criminale Almeno io Avevo due pescate Dietro E avevo due land Questo va bene Mi appoggiamo un altro E abbiamo già Un discretissimo Clock Va bene Ci riprendiamo Quest Vai Cioè vai Ti attacco E qua Che si scarta Che scarto Ephemerit qua Tanto Poggiamo soltanto Pets Non voglio saltare L'endrop Anche perché Almeno la quinta Mi serve Pazzo criminale Pazzo criminale Non si tiene mai Monolanda On the play Mamma mia Pazzisi A 7 Poi A 7 Incredibile Va bene Siamo sul 4-0 Comunque Or dunque Match numero 5 Siamo sul draw Va bene Va bene Abbiamo infinite creature Che pescano Sicuramente Non saltiamo L'endrop Ho beccato un altro Folkoro Gate Questa sesta Landa Un po' tantino Va bene Un po' tantino Ma vediamo Che succede Sì E trova bene Inspector Questa settima Landa Eh Che dire Un po' pesantuccia Va bene Prendiamo Bianco Così ci leviamo Qualche altra Landa Dal mazzo Vai Così ci siamo Tolti 8 lande In 10 Carte Core Sky Fisher Prendi Abundant Ok E Cliffgate Va bene Questa non Landa È effettivamente Giusta Saliamo a 10 Saliamo a 10 Vai Sono 5 6 7 8 9 10 Ce ne rimangono 12 nel mazzo Abbiamo visto 12 carte Direi che Ottimo Sì Prendo 3 Va bene Questo è successo Voi direte A un certo punto Pescherai Un qualcosa Di diverso Dalle lande No Potrebbe essere utile Questo Cliffgate Tappa Stappa Gate Creeper Va bene Prende quindi Basilisk Va bene Stappiamo Pesco Un'Ephemerit Non è una landa È già un qualcosa Vai Vediamo che succede Con questi Basilisk Se decide di Pompare un qualcosa Non decide di Pompare nulla Va bene Prendiamo 3 Che se Se pompava Gli facevamo Utilizzare Il mana E questo è male Va bene E purtroppo Noi non abbiamo Appoggiato Tipo letteralmente Nulla Quindi questo Questo G1 Siamo Talmente Indietro Ammetto che non mi aspettavo Di pescare tutte queste lande Ammetto questa Questa mia Manganza Però facciamo ancora Questo Vai Perché poi dopo abbiamo La Vampirella Che ci può risolvere Qualcosina Se teniamo Ephemerit Open Qui non pompa nulla Andiamo a risolvere Almeno questo Vai Va bene 4 pigne Sì Non deve fare Granché Attualmente Ma tipo Veramente Nulla Io forse Avrei pompato Gatto Mi sarei beccato Removal E che così Vai sotto Fumes A una certa Landa 1 2 3 4 5 Vampirella Magari Con un altro Nero Da qualche parte Sì Non credo Che questa partita Si possa risolvere Però Vai Già se Stappiamo Con la Vampirella Giù Qualcosettina Si potrebbe Anche pensare Di fare Andiamo a levargli Quanti più pezzi Possibile Sì Ecco Top deck Di Fumes Sarebbe Davvero interessante Terzo Basilisk Va bene Però Il problema Di fondo È che lui C'ha 6 carte In mano Questo Si potrà Risolvere A una certa Adesso peschiamo Make Share Sedic Utile Quanto Nulla Stay 12 13 14 Va bene Concediamo Concediamo Andiamo Porti G2 Avevamo pescato Veramente male 1 2 3 Oddio Più o meno Più o meno Facciamo la stessa Robina Di prima Sulla stessa Scia di prima Andiamo a fare Così E vediamo Che succede Sì Tanto i chainers Non servono Veramente A quasi Un tubo Portiamo Noi Ok Va bene Non la mano migliore Del mondo Ma non fa Neanche Cagare C'è tutto Ciò che serve In realtà Bene o male C'è Ci servono Soltanto dei drop Un po' più piccoli Che però Speriamo di pescare Lui sta maldigando A 5 Il che è Un'ottima Cosa Partiamo Discovered Barons Vai Ok Mario Gate Oh Un droppino Un droppino Sì Va bene Vai E un altro Goliath Paladin Successo Sacred Cat Ok E Landa Va bene Ok Questa è un'ottima Cosa Un'ottima Cosa Scoreed Barons Vai Si è stata Un'ottima Un'ottima Carta Gate Creeper Lui si è già Stappato Picca Basilisk Va bene Ephemerate Ephemerate 1 e 2 Facciamo companion Facciamo questo Se Se Bianco Ti 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 meno Ti meno Senza troppi problemi Devo Fargli quanti più danni possibili Nella minor quantità di tempo Possibile Perché più andiamo avanti Più lui rischia di stapparsi Più lui rischia di stapparsi Vedete come i chaner non servirebbero assolutamente a nulla contro questa versione Sono veramente scarsi Mentre questo ti salva letteralmente un turno completo Ah come blocco Ah come blocco Si Va bene Va bene Va benissimo Si che lo puoi rigiocare ma Ti assicuro che questa cosa va benissimo Anche perché così abbiamo risolto il gatto con la sola forza di un fumes Però lui si è guadagnato una vita quindi Questo anche rimane essere rilevante Io spero nel prossimo turno di poter appoggiare un Goliath Paladin Goliath Paladin Top 1 Journey to the World Che sai che Mi va bene Mi va bene Che gattino Ok Mi va bene Io per il momento faccio Una custodia squire Mi vado a riprendere il companion Passo E il prossimo turno Posso tranquillamente fare Goliath Paladin Prendere bianco E rimanere open di Ephemerate Che è un'ottima cosa Che è un'ottimissima cosa Che perché Quell'Ephemerate lì sarebbe stato un po' sprecato Un po' tanto sprecato Non faceva vantaggio Mi portava potenzialmente indietro Non era probabilmente ottimale Sì Prendi un altro Basilisk Successo Ok questo è un altro pezzo che sta sotto Piumse Va benissimo Va benissimo Uno due tre Quattro Cinque Facciamo Paladino Ok 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 Bianco 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 Vai Tu hai il tuo rebound di Ephemerate Tu ti prendi un'altra terra O ti peschi un'altra carta Prendi un'altra terra Così potrai attaccare con l'Overseer Va bene Va bene Sì Io potenzialmente posso addirittura dire Ephemerate qua sopra Faccio Forge Metto due segnalini Più uno più uno Dopo aver bloccato Portandomi così ad avere un 5-5 Che uccide l'Overseer Potenzialmente può essere anche un piano Se invece Pompagatto Blocco di Paladino A parte che Posso bloccare e basta Letteralmente Ma non è vero Non è vero Che adesso devo dare P5-P5 Quindi no Non ha neanche senso questo piano Vabbè Vediamo che succede Vediamo che succede Vediamo che succede Ok So che semplicemente dire blocco e basta Io mi sa che blocco e basta Ok Per il prossimo stiamo open Di Fumes Così gli uccidiamo entrambi i pezzi Mi piace Va bene Ora si riprende il Sacred Cup Va bene Stappiamo Io vado per la linea aggressiva Perché adesso ce l'abbiamo in mano Linea aggressiva Facciamo l'Anda E attacco Che questo è sempre forte Con tanti danni Poi A me quanto mana serve? Tipo 5 Quindi facciamo così Trave l'Inspector Ok Vai Come tecnicamente Mi servirebbero 5 mana Per risolvergli tutto il board Sì Sì Vorrei Non è vero Non è vero Perché ha pensato di Aver pescato Castdown Non lo sapremo mai Va bene Va bene Va bene Prendiamo 4 Risolviamo in Endon Va bene Questo è stato un mio piccolo errore Del fatto di online Delle volte sei convinto Di pescare determinate cose Ho visto una removal Ho detto Ah Castdown Va bene Va bene Ok Il mio tutorial è una basica Questo ci cambia relativamente poco In realtà il fattore è che questo qua Tanto non serve più a nulla Questo qua sta per morire E vediamo quanti altri pezzi Si appoggiano al trover Se vediamo più valore A questo Fumes Un pochettino la speranza Questo va bene Tutori un'altra Un'altra terrina Leapgate l'hai giocato Terzo Basilisk Ok Va bene Il Basilisk E Core Sky Fisher Va bene Va bene Questo turno però Prende una caterba Di danni Ok Noi possiamo tranquillamente dire Attacco Poi dopo Ascolta 1 2 3 Facciamo Fumes E risolviamo questi due Come prima cosa 1 2 Pesco Vampirella Vampirella Croccantissima Vampirella è croccantissima 1 2 3 1 2 3 4 E 1 5 Perché io però non voglio Però così mi uccide quello Chi se ne frega Perché prende un botto di danni Va bene Ti vorrei attaccare Ok Prendi 5 Che quindi diventano 10 Mi vai a 5 Dovrai sempre avere un bloccante dietro In realtà sei morto La Tu non lo sai Ma sei morto Terrino 1 2 3 4 5 Facciamo Vampirella Ed è Femerizu Vampirella Ed è GG Mamma mia Questa Vampirella Quante partite Che mi sta chiudendo In questa lega Quante partite Che mi sta chiudendo In questa lega Pazzesca Va bene Submittiamo Andiamo a giocarci La prossima Comunque lui gioca I Journey Quindi in realtà Possiamo switchare questo Va bene Proviamo così Proviamo così Abbiamo un Donbringer in più Che può Decisamente fare un qualcosino Ok Abbiamo comunque Boss Sight Un piano molto forte Contro di lui Oltre al Se giochiamo aggressivi Non ci serve neanche quello Questa la maldighiamo Questa la maldighiamo Va bene Da qui leviamo uno E leviamo Purtroppo due Serto Peccato Ma dobbiamo fare così Ok Ok Mi ha messo sotto due land E abbiamo pescato una land Che vale doppio Benissimo Benissimo Sacred Cat Landina numero due Ok Coalition Honor Guard È una carta Dobbiamo sempre poterlo proteggere Con Ephemerate Quindi ci metteremo Un attimino Ad arrivare A rendere Grosso Questa Coalition Però Intanto Una volta che abbiamo Coalition È tecnicamente Un Ephemerate Per poterlo proteggere Tutto ciò che ci serve Poi dopo È pescare Una make Per guardiano E mediamente Mediamente Anche una vampirella Sul campo Non sarebbe male Di un po' di cose Devono Devono purtroppo Ancora succedere Questo va bene Sì In tutto questo C'è quattro carte in mano Noi i nostri pezzi Fanno vantaggio Suoi un po' meno Ok Va bene Peschiamo Andiamo di questa Sì Vai Ok E già si sta sviluppando In maniera abbastanza decente Per bloccare un gatto Ok Va bene Hai fatto il creeper vine Ok A questo punto Riappoggi gatto Corsky Fisher Va bene Si riprende il creeper vine Va bene Io ho ancora un turno Me lo vorrei accollare così Quindi faccio Traben Obscura Si Si Altro bianco Vai E dal prossimo Cominciamo a installargli Perlomeno I gate Vorrei Accopparti questo Si Va bene Basi Visc Numero 2 Va bene Hai un sacred cut Non rompere le belete Ok Ok E un altro sacred cut Successo Landa 234 Coalition Honor Guard Vai Perlomeno Per il momento Abbiamo installato Se non mi pesca dei volanti In questo momento Noi dovremmo avere il tempo Di poter pescare un qualcosina Anche noi Almeno questo è l'obiettivo Journey Journey Entra E un Journey È risolto Uno Vediamo quanti A quanti Journey Arriva Ok 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 Due carte in mano Quindi Ci siamo riguadagnati un po' Dello svantaggio Eh Ci siamo riguadagnati tanto Dello svantaggio Proprio tanto Proprio tanto tanto E abbiamo rimesso dentro anche un altro Downbringer Perché almeno Possiamo andare a uccidergli Un Journey Quando sarà Ok E lui non pesca così tanto E non è che Can'trippi molto Wow Allora Vorrei pescare Castdown Facciamo Tramming Inspector Facciamo questa Questa mi leva Ma prendiamo nero Per il momento Vai Ok Ci abbiamo la possibilità Di pescare altre due carte E mettere in una condizione Pecente Questo va bene Perché abbiamo pescato Fumes Quindi va bene Sì Ok C'è il terzo Basilisk Andiamo in end E uno e due Pesco Coalition numero due Coalition numero due È grossa Coalition numero due È molto grossa Due tra quattro Coalition Non faccio nient'altro Vai Coalition numero due Vuol dire che anche se Top Deck a Journey Non mi uccide Non mi può uccidere Noi dovremmo avere il tempo Di poter pescare un volante Per risolvere un pochettino La situazione Gli possiamo risolvere anche un altro gatto In realtà possiamo aspettare Con questo Fumes Pesco Scored Varens Tra la venina Sì Pesco Eh Più o meno Facciamo questa Vai Gli ho pescato Un tot di carte E un tot di lande Non benissimo Possiamo dirla questa cosa Non benissimo Sì Abbiamo un paio di removal Noi un po' di tempo ce l'abbiamo Cast down Zio banana Facciamo questo Ok Sì Vai Ok Ok Andiamo a 16 Terra va bene Pesco una carta Decente Bene E una carta decente Questa si cicla Oh Un'altra carta Pseudo decente Andiamo a 17 Non abbiamo neanche dovuto utilizzare Le nostre removal Landa Vai Adesso abbiamo completamente installato E abbiamo fermato Questo Questa perdita di vite E bloccherò Sì Moriamo entrambi Ok Pesco Io in realtà Qua posso attaccare Con entrambi I coalitions Ma questa cosa Qua è fortessa Ma Core Sky Fisher Ok Ok Companion 1 e 2 Mamma mia Queste Sky Fisher Sì 1 e 2 Adesso L'unica cosa Che in parte Mi frega È il Guardiano Ripeto Però lui Mi può fare L'occo Ma non voglio andare sotto Perché potrebbe giocare I Bolt Non è che ci voglio andare Troppo sotto Quei Bolt Adesso abbiamo i nostri volanti Va bene È un pescato mezzo mazzo Praticamente Quasi Questo va bene Sta sempre sotto Fumes Diciamo che questa partita Se riesco ad arrivare Ad una make Mi sento Molto bene Goal Power Zin Eh beh Lo facciamo Sì Ok Ok Prendiamo bianco Facciamo bianco E 1 2 3 Facciamo pure questo Un make E abbiamo tutte le nostre risposte Vai Letteralmente tutte le nostre risposte Non credo ci sia più un top deck Che possa Vattermi E infatti Facciamo un 5-0 Con la Mangulist Di questo Orzov Ephemerate Che dire Che dire Che la lista Alla fine È forte Torniamo alla lista Già che C'erziamo E La riproponiamo qua Indubbiamente Ha un sacchissimo Di potenziale Questo Poco da dire Sembra che Alla fine Tu abbia un piano Contro Un po' tutti Ogni tuo pezzo Fa value Ed è anche Abbastanza Pesante Impattante Sul board Poi sicuramente Iniziativa Questo mazzo Dà una spinta Incredibile Ma sono rimasto Abbastanza sorpreso Da queste vampirelle La possibilità Proprio di chiudere Nello stesso turno Facendo questa Più Ephemerate Oppure Ultimate Dopo averti fatto Un botto di danni Ti gira questa Come 6-7 Volante Drain a 3 Possibilità di Efemerare Senza Neanche Che ve lo puoi Versagliare Perché in quel turno C'ha pure Exproof Insomma Sicuramente una valida Alternativa Se non volete Rischiarvela con i dark Ritual Per provare a Scammare Ma qui Giocate molto più Molto più Terra-terra Molto più Midrange Normodotato Ma con delle powerplay Anche abbastanza elevate Date appunto Da questi Ephemerate Che dire Se il video vi è piaciuto Buttateci un like Fatemi sapere Cosa ne pensate Nei commenti Qua sotto Rispetto alla lista Se vi è piaciuta E magari Che cosa vorreste vedere Magari Nei prossimi video E noi ci vediamo Al prossimo video